Ti aspettavi di avere questo impatto sulla partita? No, così tanto no, però il mister me lo dice sempre, allenati bene perché Yallo li sfianca, gli avversari, arriva il momento per tutti e quindi penso di aver aiutato la squadra. Raccontaci questi due gol. Ma il primo, innanzitutto non so se mi hanno detto che mezzo gol è il dubbio. Comunque dà il primo una mezza mischia, Scogna Miglio come sempre di testa le prende tutte. Invece il secondo, era già il secondo cross che stanno dietro la linea difensiva e ero solo. Prima volta me l'aveva parata, invece sono andato in girata e meno male è andato dentro. Insomma è stata una rimonta importante e alla fine una goleada a questo Pescara, comunque una squadra forte, una prova di carattere. Sì, diciamo che il primo tempo siamo partiti bene, abbiamo sbagliato qualche gol, però si vedeva che loro ripartivano forte. È una partita difficilissima e soprattutto conta essere arrivati in classifica a pari merito con loro e ci stiamo piano piano levando dalle sabbie mobili. Come ti trovi tu con Castori? Ancora non tantissimo spazio, forse di più in futuro. Sì, diciamo che il mister gioca con una punta sola con la ribisotto, quindi spazio ce n'è poco. Però se mi lascio entrare 10-15 minuti a me va bene, io cerco di dare il masso. A quanti gol vuole arrivare? Così il tuo obiettivo. Come per un attaccante a doppia cifra l'obiettivo è quello.